Il cielo e il tempo non ci assiste molto in questi giorni perché fa molto freddo ma cerchiamo comunque di ottimizzare per gli allenamenti e quindi faremo sempre il nostro meglio e ringraziamo anche il nostro CT che ci segue in queste giornate importanti. Anche Martina Bartolomei in ritiro nella sua terra con la nazionale di tiro al volo. La squadra si sta infatti preparando nel centro tecnico di Ponticino ed è stata ricevuta in comuna la Terina dal sindaco e dal suo vice. È un piacere per noi avere ospite alla nazionale femminile che si allena appunto in questo impianto e quindi è importante averli fra noi perché è una visibilità per il territorio e un onore. È un impianto molto importante a livello nazionale, quest'anno abbiamo la finale del campionato italiano di questa specialità, uomini, donne e junior e per me è un luogo dove sicuramente posso, ho tutte le strutture necessarie per poter allenare bene i miei ragazzi. L'Italia del tiro al volo si sta preparando in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono tutti atleti che hanno vinto già gare molto importanti da campionati del mondo, Olimpiadi, Coppa del Mondo, quindi il mio ruolo è quello di riuscire a portarle alle prossime Olimpiadi a Parigi ad agosto delle condizioni migliori per poter permettere di portare a casa qualche medaglia importante come abbiamo fatto sia a Tokyo che a Rio e anche nelle Olimpiadi precedenti. Il nostro sport è importante per le medaglie vinte a livello olimpico e campionati del mondo, quindi speriamo di continuare questa importante tradizione.